La Polizia di Stato prosegue con le iniziative per il contrasto della violenza di genere a tutela delle vittime attraverso la rieducazione. Il questore Enrico De Simone e l'avvocato Cristina Marcone della cooperativa L'Elefante hanno firmato un protocollo d'intesa che prevede collaborazione in questo senso per prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere. La questura in realtà già porta avanti diverse iniziative dedicate alle donne e in questo modo vuole tessere una rete sempre più fitta con le associazioni del territorio anche nell'ottica della rieducazione del reo del cosiddetto maltrattante. I protocolli mirano una risposta immediata e integrata ai fenomeni di violenza, offrendo però all'ammonito un percorso con un'equip di professionisti, ma anche ad un monitoraggio del fenomeno della violenza sul territorio in un'ottica di potenziamento del lavoro in rete. La cosa fondamentale in queste situazioni è avere il contatto diretto, quindi vedere le persone, parlare con le persone e capire effettivamente cosa c'è dietro a queste forme di tensione che possono poi sfociare in azioni violente. Il contatto è fondamentale e soprattutto è fondamentale informare le persone che ci sono anche questi altri percorsi, che ci sono altre possibilità, oltre che le vie giudiziarie, oltre che dar luogo ai provvedimenti anche afflittivi del questore, ci sono dei percorsi di rinserimento, ma soprattutto bisogna percepire in questo caso la volontarietà, che per fare questi percorsi occorre che le persone siano veramente convinte, perché non è un percorso semplice, è un percorso molto articolato, che è fatto di tante interlocuzioni con altri soggetti esterni alla Polizia di Stato e quindi è un percorso che è anche lungo nel tempo. Molto importante il ruolo della divisione anticrimine con la dottoressa Rosalba Angeloni. Dopo un periodo di calma apparente nella pandemia, dove c'è stato un calo delle denunce molto sommerso, il fenomeno è ripreso, ma la collaborazione con le associazioni è davvero essenziale per un controllo fitto del territorio. Con la fine del lockdown le denunce sono state molte, il problema è che poi nel momento in cui si denuncia il provvedimento dell'ammonimento non può essere emesso, però a livello di quei provvedimenti non ne abbiamo emessi tantissimi. Era importante però avere questo protocollo perché una presenza, al di là dei servizi sociali, una presenza di un ente, di un'organizzazione privata che monitori il fenomeno serve a noi e serve soprattutto alle vittime e agli autori perché è una salvaguardia per tutti.